ciao ben ritrovati allora oggi parliamo ancora di scapole e di tensione alle spalle alle scapole ricordatevi che sciogliere spalle e scapole è comunque rilassante anche per il nostro collo quindi anche per tutto il tratto cervicale va benissimo ci mettiamo sempre giù a terra o sul tappeto o sul divano o sul letto a questo punto cosa facciamo ci accucciamo e portiamo io porto il braccio sinistro leggermente più giù della spalla giro il volto verso il braccio sinistro in linea con la spalla e resto resto un pochino sempre respirando e portando il mio respiro sul dorso dopo aver rilassato un po' piego il braccio destro e lo porto in linea con la spalla giro la testa portiamo il braccio destro un po' più giù e il braccio sinistro fuori pieghiamo adesso il braccio sinistro appoggio la fronte a terra e portando il bacino un pochino sui talloni incrocio le braccia cercando di portare il collo e la testa in avanti sollevo leggermente il bacino e devo sentire il lavoro all'interno delle scapole resto e poi giù mi riaccuccio e sempre con movimenti lenti e morbidi snocciolo e ritorno in posizione di partenza ciao a tutti alla prossima pillola